Spagni! Prendete posizione e aspettate il segnale! Non sparare. Vedi lanciafiamme. Devi scegliere il momento giusto. Ma se vuoi scaldare il sabatoio, incinererai tutte le persone vicine. Loco di copertura per i nostri amici là sotto! L'altro lancio piano! Alla sequenza! Ragnatrice a secondo piano! Ci serve un medico! Le forti tedeschi si sbattono sul balcone di sinistra! Continua a sparare! Ah, presto! Sbattono l'altro! E' l'altro che si fa scuola in alto! Sbattono l'altro! Sbattono a venire! Sbattono l'altro che l'altro! Sbattono l'altro che si stanno avanzando! Dobbiamo spostarli! Presi! Altra falteria! Valgela! Sbattono l'altro! Sbattono le fronte! Sbattono le fronte! Sbattono le fronte! Sbattono le fronte! Guarda che i bambini! Politegna! Ancora il cammino! Pianza quelle tasse! Di fronte! Bravata! Sparate! I nostri amici hanno bisogno di copertura! Hands up! Carico! Ucciso! Nuova vita del discusso! E' un grande triste! Vedete di che ho qualcosa! Merito! Perfetto! Perfetto! Attenzione! Perfetto! 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 I nostri compagni stanno ripolendo l'edificio. Tocca dove spari! Ho preso le comunicazioni. Amsel cercherà di fuggire. Presto, dobbiamo tagliargli la via di fuga. Avanti, dritto! Los, los, los! I'm not the fish! I'm not the fish! I'm not the fish! I'm not the fish, my compagni! A terra! Seguimi. Conosco una postazione perfetta che copre il posto di comando. Non sparare! Siamo troppo vicini all'obiettivo per rivelare la nostra posizione. Non c'è nulla che possiamo fare per i compagni. Il loro sacrificio verrà vendicato! La morte del generale Amsel sarà solo l'inizio. Guardala davanti. Quell'edificio è il posto di comando tedesco. Il generale Amsel sarà presto inquadrato per la nostra posizione. Le morie della lotta lo faranno uscire fuori. C'è un proiettile nella testa della sua guardia del corpo. Amsel si sta nascondendo dietro il carro distrutto. Amel si sta nascondendo dietro il pezzo d'artiglieria! Amel si sta nascondendo! Amel si sta nascondendo dietro il pezzo d'artiglieria! Amel si sta nascondendo! Amsel sta nascondendo un po' di 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 un po Hamster sta fuggendo! A lasciartelo sfuggire! Sei un vero tiratore scelto, Dimitri! Andiamo a cercarci! Dobbiamo andarcene! Presto! Prima che Gatti spazza di nuovo! Morisco! Non siete alto! Nel fiume, Dimitri! È la nostra unica possibilità! Vai!